Si chiama Urbanistica Partecipata ed è un progetto avviato dal Comune di Romano Dezzelino, un modo per coinvolgere i cittadini nella gestione della cosa pubblica. Si tratta di una nuova variante al piano degli interventi che inizia con il documento del Sindaco, e cioè un documento che traccia le linee guida per il futuro, per il futuro dell'urbanistica di Romano, soprattutto per il territorio di Romano. Invitiamo tutti i cittadini a farsi partecipi dello sviluppo del territorio di Romano, anche con la possibilità, oltre a quella solita, di richiedere quello che è la variazione urbanistica del proprio terreno, anche di segnalare qualcosa, qualche manufatto, qualche territorio, qualche area del Comune che sia in degrado, che sia da riqualificare e sul quale il Comune potrebbe dimostrare un interesse pubblico. Questo strumento riusciamo a far sì che non ci siano solo gli occhi del Sindaco, della Giunta e dei consiglieri, ma che ogni cittadino possa formalmente segnalare e prendersi cura di una parte del territorio. Diventa così importante essere trasparenti e dire, cittadini, c'è un'area da sistemare? Eccoci presenti. Cosa importante, non ci saranno segnalazioni anonime. Ognuno si prenderà anche la responsabilità di dire, amministratori, mi metto in prima persona perché segnalo questa cosa.